Fintanto che le donne verranno uccise, in quanto donne, fintanto che la violenza mascherata d'amore continuerà a fare vittime. Io lo terrò per tutto il tempo, che starò qui a Montecitorio. Poi certo, non so cosa succederà dopo di me, ma per questo tempo il drappo ci sarà. E io credo che se anche i numeri, in termini assoluti, ci dicono che meno donne sono uccise, meno stemminicidi ci sono, è sempre troppo.